Io ho spaventato un ringraziamento ad Anna Finocchiaro, era veramente complicato farla venire, giri troppo lunghi, troppo importanti e però Anna, io voglio dirti questo, Casoria merita rispetto, Casoria merita attenzione, Casoria merita riconoscibilità, perché qui ci sono tanti giovani, tante ragazze e ragazzi, tante persone per bene, la tua presenza l'emotiva, l'immotiva, la tua presenza è il segno che questo partito c'è, vuole esserci, vuole crescere e perché no vuole vencere, grazie.